Qualcuno ha voluto fissare la figura e l'opera di Baudelaire in una espressione molto efficace, il morbo e il marmo, il morbo perché nella sua poesia ritroviamo l'inquietudine, il tormento, la perversione, il rovello dell'epoca contemporanea, il marmo perché tutto questo si esprime attraverso la forma classica, prima fra tutti il sonetto di cui Baudelaire diceva essere dotato di una bellezza pitagorica. Ebbene, per avvicinarci a questo grandissimo poeta con il quale è stato detto la modernità entra nella poesia, comincerei affidandomi alla guida di John Jackson, uno dei maggiori studiosi, il quale ci fa notare subito il punto centrale del rovesciamento bodeleriano, la natura scompare a favore della città. Il grande capolavoro del critico novecentesco tedesco Walter Benjamin parla di Parigi capitale del XIX secolo. Dunque non ci sono più i boschetti, il lago di Lamartine, la natura tanto cara ai romantici, i laghisti inglesi, tutto questo è cancellato a favore delle nuove strade, delle nuove piazze, della nuova popolazione di questo spazio urbano. Industrializzazione e massificazione. Uno tra i maestri di Baudelaire sarà d'altronde Edgar Allan Poe, il grande scrittore americano di cui Baudelaire tradurrà l'opera. Per un paradosso, dice Jackson, l'entrata in modernità coincide con un sentimento di caducità, di morte, sorretto da una delle parole chiave, su cui torneremo più volte, spleen. Lo spleen non è altro che il malessere romantico di Chateaubriand, di Senancourt, di Sainte-Beuve per restare in area francese. Appartiene alla famiglia della Zenzucht, dello struggimento, della nostalgia dei romantici tedeschi, ma è qualche altra cosa. Lo spleen, che in inglese significa milza, sta a indicare la bile, l'umore atrabiliare, l'umore nero, melanconia da melanos, nero, l'umore dunque che possiede l'uomo e ne fa un estraneo al mondo. Ecco, troveremo nelle poesie che leggeremo molto spesso il senso di un esilio dalla terra. Ora, un altro punto centrale in Baudelaire è il cristianesimo, un cristianesimo particolare mediato dal grande reazionario che fu José de Maestres, un cristianesimo venato di agostinismo. La riflessione è stata detta sul male e sul peccato, non può avvenire che da una sorta di distorcimento del senso di colpa, dunque profondamente cristiano. Baudelaire è un poeta cristiano che morirà bestemmiando nell'ospedale in cui era stato ricoverato, tanto che le suore dovranno cacciarlo via. Ancora, cosa troviamo in Baudelaire? Un occhio aperto e lucido sulla sensibilità del suo tempo che ci fa pensare a Balzac. Inoltre, un profondissimo senso di pietas, di commozione per una popolazione gettata ai margini della società. Ricordiamoci che nel 1948, lo vedremo tra un istante, la grande rivoluzione che attraversa l'Europa, l'uscita del manifesto comunista di Marx. Nel 1948 Baudelaire si troverà sulle barricate e dunque sono le povere vecchie, i poveri vecchi, i mendicanti, i clochar, i saltimbanchi, gli zingari, gli uomini verso cui va il suo amore in strano contrasto con il suo elitarismo, con quella aristocraticità che gli veniva da una scelta di campo ben definita. L'essere, il voler essere dendi. Il dendi oggi si confonde con la figura di un gigolò, di qualcuno elegante. Il dendi nell'Ottocento, dal grande Brammel a Gautier, cui sono dedicate i fiori del male, l'opera di Baudelaire, il dendi era un asceta, un monaco del bello che lottava contro la società borghese dell'utile e del commercio. Baudelaire nasce nel 1821, lo stesso anno di Gustave Flaubert. Lontano dalla Francia vede la luce un altro gigante, Dostoievski, e nello stesso anno muore Napoleone Bonaparte, a cui Manzoni dedica la poesia il 5 maggio. I dieci anni che vanno dal 1820 al 1830 sono gli anni della battaglia romantica. In Francia uomini come Stendal, Hugo, Nerval lottano per affermare un nuovo movimento, il romanticismo, contro il sorpassato classicismo. L'affermazione del movimento romantico verrà sancita nel 1830 con una prima teatrale, l'Ernani, di Victor Hugo, accolta tra scandalo e applausi. Il 1830 è un anno importante anche per la rivoluzione di luglio. Re Carlo X viene allontanato e sul trono sale un nuovo re, Luigi Filippo, che verrà soprannominato nelle caricature Re Pera. Nello stesso anno la Francia inizia l'invasione dell'Algeria, che terminerà più di cento anni dopo, nel 1958, con Charles de Gaulle. I dieci anni che seguono, dal 1830 al 1840, sono densi di avvenimenti. Sorge l'astro di Balzac, l'autore della Comédie Humaine. Muoiono Goethe, il grande scrittore tedesco, e lo scuzzese Walter Scott. In Germania muoiono Beethoven e Schubert, mentre inizia l'ascesa di un altro grande della musica, Schumann. Sempre in ambito musicale, in Francia, si afferma Chopin, mentre in Italia diventa famoso Donizetti con la Lucia di Lammermoor. Sul finire degli anni 30 sale al trono in Inghilterra la regina Vittoria, che inizierà il suo lungo e felice regno. Una data importante, con una coincidenza segno dei cambiamenti in atto, è il 1842, quando Baudelaire ha 21 anni. Muore Stendhal, il grandissimo romanziere formatosi alla Scuola degli Illuministi, e nasce Mallarmé, che diventerà il principe dei simbolisti. Il 1848 è l'anno della rivoluzione, che porta alla breve esperienza della Repubblica, terminata tre anni dopo nel 1851, con il colpo di stato di Napoleone III. Ha inizio così il secondo impero. Nel 1857 viene dato alle stampe Madame Bovary di Flaubert e Le Fleur du Mal di Baudelaire. Entrambi gli autori verranno portati davanti a un giudice e processati per oscenità. Due anni dopo, nel 1859, Darwin pubblica L'origine delle specie. Nel 1861 la Francia entra in contatto con lo stravolgente genio musicale di Wagner, che Baudelaire adorerà. Sono gli ultimi anni della sua vita. Nel 1867 Baudelaire si spegne a Parigi all'età di 46 anni.